Pandeve domenica non giocava, giocava insieme. Pandeve per esempio a Colchievo non c'era, quindi voglio dire Maggio ha fatto la partita per Zuniga secondo me il primo tempo finché non ha avuto questo fastidio il secondo è stato uno dei pochi che si era salvato, il primo tempo era un po' più lucido quindi mi ha fatto qualche nome se si vuole entrare nello specifico, quello non mi preoccupa perché la condizione generale di questi giocatori è buona. Ora domani dipende da tante cose, da come anche la squadra li aiuterà, come gli daranno la palla quando si inseriranno, cioè non è che a volte la prestazione di un singolo come ho detto prima vale per Eddie, vale per tutti, la squadra è un mosaico, quando un tassello non funziona può darsi che mandi fuori i giri anche gli altri tasselli, quindi tutta la squadra io sempre prendo in considerazione.